Ciao, sono Laura e sono una studentessa fuori sede di Computer Science. Cinque anni fa mi sono trasferita dalle Marche a Milano. Com'è stato all'inizio? Per me è la prima volta che vivo da sola e all'inizio è stato davvero difficile coniugare le nuove responsabilità con gli impegni universitari, ma penso che sia normale. E com'è andata dopo cinque anni? Ho trovato la comunità informatico in un ambiente molto accogliente e inclusivo a livello didattico e l'elettorizzazione delle classi mi ha sicuramente aiutato a trovare persone che potessero essere a me più affini, sento di essere pronta ad essere inserita in qualsiasi contesto. Che consiglio daresti? Sicuramente di farlo, cercare di conoscere più persone possibili, partecipare all'attività, non so, organizzare gruppi di studio, non dimenticarti che alla fine ci sono molte persone nella tua stessa situazione, che poi magari li sentono sole e ricordati di studiare.